Sei anni e d'otto mesi, questa la condanna per Braulio Pavela Martinez accusato dell'omicidio della connazionale Joella Ramirez Seipio. Tanta la rabbia e l'amarezza dei familiari della vittima durante la lettura del dispositivo. Sono pochissimi. Non sono niente sei anni per una vita, assolutamente niente. Deve il gognarsi del tuo. Un assassino. La sentenza è stata emessa dal gruppo del Tribunale di Arezzo Giulia Soldini al termine del rito abbreviato. La PM Francesca Eva, pur riconoscendo le attenuanti generiche, aveva chiesto una condanna a 12 anni per omicidio volontario, ma il giudice ha riconosciuto il reato di omicidio preterintenzionale. Abbiamo dimostrato che non c'era alcuna intenzione di uccidere e che questo evento drammatico è stata una conseguenza non voluta di un gesto sicuramente avventato, ma che non voleva portare ad un assito così fatale. La nostra è stata una ricostruzione anche scientifica attraverso perizie e riteniamo che sia la decisione giusta giudicamente. Il giudice ha disposto anche una provvisionale per i familiari. 40.000 euro per la bimba e 20.000 euro provvisionale per ora da liquidarsi i poveri civili per ciascuna delle parti, ma non siamo assolutamente soddisfatti. L'omicidio è il primo ottobre 2023 a Terra Nuova Brecciolini all'esterno di un locale a seguito di una rissa. La vittima fu raggiunta da un arghile in faccia e i pezzi di vetro gli recisero la giugulare. La morte avvenne per dissanguamento. I legali della difesa stanno adesso valutando di richiedere misure cautelari alternative. Non ci riserviamo di depositare un'istanza di libertà, all'esito non l'abbiamo depositata. Chiaramente la mutazione giuridica evidenzia anche una valutazione diversa sia sotto il profilo della condotta che eventualmente ipoteticamente, però allo Stato valuteremo all'esito.